Hanno tolto la catena dalla porta, ma non possono obbligarci a giocare. Abbiamo deciso di finire ciò che lei ha iniziato, signore. Sì, perciò ci lasci in pace. Abbiamo un casino da fare, coach. Sì, perciò ci lasci. Non è solo in alcuni di noi, è in tutti noi. Se noi lasciamo la nostra luce a splendere, inconsciamente diamo alle altre persone il permesso di fare lo stesso. Appena ci liberiamo dalla nostra paura, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. Signore, volevo solo dirle grazie. Mi ha salvato la vita. Grazie a voi, signori. A tutti voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.